Scoperta una truffa all'Inps di 3.120.689 euro. Le fiamme gialle di Siracusa nell'ambito del servizio di istituto minato alla repressione di reati in materia di spesa pubblica hanno notificato un avviso di conclusione indagine nei confronti di due titolari di studi commerciali, di tre collaboratori, 15 titolari di aziende agricole e di 44 falsi braccianti agricoli. L'attività di indagine coordinata dalla procuratore capo dottor Francesco Paolo Giordano e diretta dal sostituto procuratore dottor Andrea Palmieri avviata nel 2013 e conclusa nel 2017 è stata posta in essere dalla tenenza di noto con l'ausilio e con la collaborazione degli ispettori dell'Inps. Le indagini svolte anche con l'ausilio di indagini tecniche hanno consentito di far emergere un collaudato e consolidato sodalizio criminale operante nei comuni di Rosolini e Pachino, dedito alla truffa ai danni dell'Istituto di Previdenza che ha causato un danno complessivo pari a 3.120.689 euro. Le giornate lavorative mai effettuate e comunicate che hanno generato indennità previdenziale assistenziale per oltre 3 milioni di euro sono state quantificate dalle fiamme gialle nettine in 94.726. L'importo è complessivamente riferito ad indennità di malattia, maternità e disoccupazione indebitamente percepita negli anni oggetto di indagini da tutti i consapevoli finti braccianti che hanno agito con il concorso e la compiacenza dei titolari dell'azienda agricola e degli studi commerciali. Erano questi ultimi che comunicando la fittissima estavorazione del rapporto di lavoro subordinato quale bracciante agricolo presso imprese, in alcuni casi inconsapevole di tale operazione e in altri consapevoli, traevano in inganno l'Inps che erogava così le indennità ai soggetti non aventi diritto. L'attenzione degli investigatori si è focalizzata sulle aziende che mostravano una forza di lavoro sproporzionata rispetto ai terreni posseduti e al fatturato. È emerso in alcuni casi che molti degli indagati appartenenti alla cosiddetta comunità dei camminanti di noto pur risultando formalmente al lavoro presso aziende agricole di Rosolino e Pachino venivano controllate dalle forze di polizia del centro e del nord Italia. I falsi braccianti, che di fatto non avevano mai prestato alcuna giornata lavorativa, con questo illecito modus operandi, avevano anche costruito una posizione contributiva che in futuro avrebbe consentito loro di percepire la pensione. Le indagini della Guardia di Finanza mirate al corretto impiego delle risorse hanno consentito di impedire che le condotte illecite sottraessero le indennità alle fasce più bisognose che invece ne hanno il pieno diritto. L'ipotesi del reato oggi contestata dai 64 indagati è di truffa ai danni dell'Inps in concorso.